Un saluto a tutti gli amici di GD Poker, sono Erioni Islamai, specialista di EZAP. Proseguiamo il nostro viaggio parlando di alcune dritte sulla strategia, soprattutto post-flop, nel mondo dei sit-and-go EZAP. Oggi affronteremo il discorso della continuation bet. Cosa si intende per continuation bet? La continuation bet è una puntata fatta al flop o anche nelle street successive dopo aver rilanciato pre-flop. È importante sapere andare in continuation bet, è importante saper capire quando andare in continuation bet, è importante calibrare bene la frequenza con cui si va in continuation bet. Ma quali sono i fattori da tenere in considerazione prima di fare questa puntata? Innanzitutto, gli stack in gioco dei due avversari. Non ha alcun senso andare in continuation bet quando io oppure il mio avversario abbiamo 10 big blind. Ne abbiamo investiti due per poter rilanciare pre-flop e ne devo investire altri due per poter andare in continuation bet. Quindi andare in continuation bet per foldare sarebbe uno spreco di fish. Il secondo fattore che bisogna tenere in considerazione sono le caratteristiche del nostro avversario. Se abbiamo di fronte una calling station non ha senso andare in continuation bet con mani che abbiano scarsa equity. Anche perché se lo facciamo siamo costretti a farne tre. Flop, turn e river. Per poter far foldare il suo punto che molto spesso sarà debole. Contro un avversario forte dobbiamo porci delle domande. Dobbiamo pensare molto a come siamo stati percepiti durante questo zap. Qual è la nostra immagine? Qual è l'history che abbiamo fra di noi? Perché un avversario capace, un regular forte, può anticipare le nostre decisioni. E quindi può reisare molto spesso in blef. E quindi quando andiamo in continuation bet dobbiamo cercare di anticipare quello che lui potrà fare. A seconda del turn e del river. Contro invece il giocatore tight io consiglio sempre di andare molto spesso in continuation bet. Anche perché folderà tutto ciò che è un punto marginale perché non vuole trovarsi in spot difficili. E quindi il tight aggressive è il giocatore migliore su cui andare in continuation bet molto molto spesso. L'altro fattore potrebbe essere il momento della partita. Ci sono delle fasi delle zap, soprattutto a livelli a bui alti, dove andare o non andare in continuation bet fa la differenza. Se ho un avversario capace, questo avversario saprà molto bene quando pushare sulle mieci bet, quando i blind sono alti. Se ho invece un avversario non capace potrò vincere piatti considerevoli a bui alti andando in continuation bet molto molto spesso. Quindi la c-bet è fortemente correlata al momento della partita, inteso come i blind, oppure inteso anche come stato psicologico del nostro avversario. Se noi abbiamo notato che il nostro avversario è particolarmente in tilt dopo una mano che abbiamo fatto in precedenza, possiamo intuire che la sua frequenza di raise alla nostra c-bet aumenterà. Quindi possiamo evitare di farlo per un lasso di tempo considerevole. Il quarto fattore, forse più importante, è la texture del flop. Se noi apriamo da bottone con il nostro 3 a cuori e il flop è il jack 10-9 a fiori, non ha tanto senso andare in continuation bet. Perché? Perché non abbiamo equity, non abbiamo possibilità che il nostro punto in mano possa evolversi e creare un punto che batta il range del nostro avversario. Soprattutto perché il ventaglio di mani con cui il nostro avversario ha risposto fuori posizione ha incrociato molto spesso il flop, che è pieno di draw a scala e draw a fiori. Quindi in questo caso si evita la continuation bet. Mentre va fatta, e avrete sicuramente enormi percentuali di vittoria, su flop dry e rainbow, come K7-2, Donna 5-3 e via scorrendo. Quindi, riepilogando, bisogna tenere in considerazione quattro fattori. Stack, caratteristiche del loppo, momento della partita e texture del flop. Una volta che abbiamo dimestichezza con la continuation bet, sapremo riconoscere, dopo un gran numero di partite, i flop in cui è corretto andare in continuation bet, dove la nostra cbet avrà valore atteso positivo, cioè sarà più EV. Tutto questo nasce solamente con l'esperienza, quindi macinate, macinate games, macinate, macinate flop. La value bet, a mio parere, è l'argomento più affascinante del mondo del poker. Con questo termine stiamo ad indicare una puntata per valore, fatta su una street, dove noi reputiamo che il nostro avversario possa pagare con un ventaglio di mani che noi battiamo. Quindi, quando io faccio una value bet, la mia puntata è riferita a quella parte del suo ventaglio di mani che noi reputiamo possa pagare da sotto. Saper fare value bet è importantissimo, soprattutto è fondamentale non lasciarsi sfuggire del valore per strada. Se a noi al TAR non potevamo prendere qualcosina e non l'abbiamo fatto, abbiamo commesso un errore, molto più grave dell'aver pagato fuori odds. Cominciamo con un breve esempio che possa essere illustrativo e possa dare chiarezza su quanto sia importante la value bet. Ci troviamo in un heads up sit and go su GD Poker. Il mio avversario è una calling station e la mia nota che ho su di lui recita questo. Il mio avversario è molto passivo, tende a pagare con qualsiasi tipo di draw, gioca tantissimo fuori posizione e inoltre tende a difendere i punti che lui reputa forti, tipo con top pair tende a rilanciare ed è un avversario portato ad arrivare molto spesso allo showdown. Apro da bottone, asso 9 off, rilanciando a 50 e ovviamente lui fa call. Flop, 9-6-4, piatto da 100 fish. Dopo il suo check decido di andare in continuation bet puntando 60, avendo top pair good kicker. E ovviamente lui fa call. Tan, K, pot da 220, lui fa ancora check. Con che mani il mio avversario mi sta seguendo? Il mio avversario può avere qualsiasi tipo di 9, può avere mani come 7-8, 7-5, gut shot dal basso oppure anche semplici overcard come KQ, Kjack, Donna Jack, Jack i10, insomma mani del genere. Anche perché ai suoi occhi io ho puntato poco, ho puntato 60 e quindi non c'è nessun motivo per un giocatore scarso come questa calling station per poter andare via da questo pot. Quindi decido di puntare e lui fa call. River, K, lui fa ancora check. Per le informazioni che ho sul mio avversario, io so che se lui avesse avuto doppia coppia o set sul flop sarebbe stato propenso a fare raise. Quindi nel momento in cui lui fa il terzo check o ha mancato draw oppure ha sempre mani che possono pagare qualcosa allo showdown. Però quanto si può puntare? Quanta è la puntata di valore giusta contro questo avversario? Dipende dall'avversario che abbiamo di fronte, dalle sue caratteristiche, dalla texture del board e dall'history che abbiamo con lui fino a questo momento. Noi abbiamo di fronte un avversario scarso, con una grande tendenza ad arrivare allo showdown e che non si pone grandi domande su cosa possiamo avere realmente noi. Lui guarda solamente la propria mano. Possiamo sfruttare quindi queste sue caratteristiche a nostro favore per poter scegliere una size abbastanza elevata. Possiamo puntare qualcosa come 400. In questo modo se il nostro avversario fa call lo porteremo in una situazione di svantaggio e il suo heads up si tengò sarà in salita. Avere un avversario con in station short stack ci darà enormi chance di vincere le heads up. Quindi non perdete mai l'occasione di piazzare una value bet mirata a seconda delle caratteristiche del vostro avversario e a seconda di come lui vi vede, cioè di come è percepita la vostra immagine. Sfruttare queste caratteristiche renderà voi dei giocatori ottimi di heads up ma soprattutto vi farà vincere tantissimi soldi nel lungo periodo. Perché? Perché vi porterà, grazie ad una singola puntata in una singola mano ad essere in posizione di vantaggio in quelle heads up e mediamente vincerete con più facilità i vostri heads up grazie ad una singola puntata calibrata in base alle informazioni che avete avuto fino a quel momento. Saper giocare bene la fase avanzata di un sit and go heads up è fondamentale per essere dei giocatori vincenti nel lungo periodo. Con il termine fase avanzata si intende la parte del momento delle heads up in cui si hanno mediamente da 10 ai 15 big blind, ovvero i bui 50-100. I blind sono elevati, quindi rubare il buio al proprio avversario diventa fondamentale ma soprattutto bisogna cercare di non scendere sotto ad una soglia critica in cui il nostro stack non ha più fold equity. Quindi bisogna calibrare bene le proprie continuation bet, bisogna saper scegliere con cosa pushare o con cosa chiamare un push quando il mio stack o il suo stack sono sotto i 10 big blind e non bisogna soprattutto essere scary, essere impauriti dal non sapere che cosa fare. Bisogna individuare il range teorico con cui il nostro avversario pusha in una situazione in cui ha ad esempio 8 big blind e chiamare sempre con una mano che giochi a più e più contro il suo range di push. Come si fa a fare questo? È solamente l'esperienza che te lo dice. Più e zap fai e più ti riesci a rendere conto delle frequenze, in base alle frequenze di push del tuo avversario in queste situazioni riesci a stabilire un range teorico con cui lui possa pushare che fa la differenza fra chiamare o foldare con Kjack in certi spot. Se ho di fronte un avversario super tight che mi sta mollando tutti i bui e all'improvviso ha fatto all-in con 7 big blind non ha tanto senso chiamare con ASO2 perché sarà una chiamata a MNV perché il suo range di push è molto molto stretto. Se invece ho dall'altra parte un altro regular, un altro giocatore forte che ha 7 big blind posso invece fare gli instant call con ASO2 perché mi aspetto che il suo range di push vari da 10-9 suited fino a top range. Adesso vediamo quali sono gli errori più comuni negli argomenti che abbiamo appena trattato. Partiamo dalla continuation bet. L'errore più grave che si può commettere riguardo alla continuation bet è quello di andare a puntare su flop in cui abbiamo zero equity. Questo che cosa significa? Significa ad esempio se noi rilanciamo con ASO5 a cuori e flop è 8, 7, 9 a fiori le nostre equity sono veramente scarse. Questo significa che andare in c-bet avrà molte meno chance di successo. Perché? Perché la texture del flop incrocia molto spesso il range di risposta con cui il nostro avversario ha chiamato fuori posizione e quindi riceveremo troppo spesso un call oppure un raise rendendo inefficace la nostra continuation bet. Quindi qui è mille volte meglio ceccare e rinunciare alla continuation bet. In questo modo scegliamo di usare in modo intelligente il nostro stack. Mentre ha molto senso andare in continuation bet su flop che sono dry e rainbow come kqx, k7-3, donna7-3 e asso xx sono flop in cui la nostra continuation bet avrà molto spesso successo. L'errore più comune che si può fare sull'argomento value bet ed è l'errore anche più grave che si può commettere è quello di non value betare a river. Io ho top pair, ho puntato la prima, ho puntato la seconda e a river non so più che fare. Il nostro avversario ha pagato due volte, a river è uscita una scary card e ci accontentiamo a volte di fare check behind per non venire check resati. Basta pensare che molto raramente i nostri avversari check resano river e se lo fanno vuol dire che hanno delle qualità. Quindi contro un avversario medio-medio, medio-scarso non perdete mai l'occasione di puntare anche a river, scegliendo la size giusta a seconda di chi sia di fronte. Perché? Perché perdere del valore in una mano e del valore teorico che si potrebbe vincere significa non aver colto l'occasione di mettere in difficoltà il nostro avversario. Ci renderà molto meno prevedibili il puntare su tre strade, ci renderà molto meno difficili da battere il fatto di cercare spesso dietro. Quindi bisogna cercare di sfruttare ogni singola mano e cercare di prendere il massimo valore, anche al river, anche al flop e anche al tar. Per quanto riguarda la fase avanzata, il classico errore che commettono le persone è quello di morire letteralmente di bui aspettando una monster hand nella mano successiva. Non commettete questo errore perché voi state affrontando gli heads up in bankroll, state giocando in bankroll, questo significa che non avete paura dell'esito di questo heads up. Quindi pushate ogni volta che avete fold equity, pushate ogni volta che avete una mano che possa giocare decentemente contro il range di risposta del nostro avversario. Non perdete l'occasione di rubargli un buio nella fase avanzata, che a bui 50-100 significa rubargli un decimo dello stack. Quindi bisogna essere aggressivi in questa fase e non bisogna essere timorosi. Contro avversari forti e capaci, bisogna accettare di giocare un 60-40 o un coin flip. Non ci si può permettere di perdere un buio nella speranza di avere una monster hand nella mano successiva. Questo è un errore che commettono le persone che non giocano in bankroll e le persone che sono tendenzialmente scarse, e che non hanno capito la matematica che sta dietro al mondo degli heads up. Grazie per l'attenzione, ci vediamo ai tavoli di GD Poker.